Iniziamo il video di oggi direttamente con questo grafico, il grafico della dominance di Bitcoin, il grafico dove si evince che la scorsa settimana Bitcoin ha recuperato il 9% circa di dominance sulle altcoin, sulle criptovalute Ethereum in prima linea. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un po' il punto della situazione per quello che riguarda la dominance di Bitcoin e approfondimento su tutto quelle che sono invece le cripto Ethereum, vediamo anche ADA, Cardano e XRP, qual è la sua situazione ciclica perché ieri XRP dopo una super news ha pompato alla grande. E poi cerchiamo di chiarirci un po' le idee su quelle che invece è la dominance e dove effettivamente la dominance può arrivare proprio nelle prossime settimane ragazzi, perché siamo ad un livello chiave, cioè siamo su un livello di massimo degli ultimi due anni. Il ciclo annuale, anche la dominanza del ciclo ovviamente è tutta relativamente dipendente da quello che è il ciclo storico di Bitcoin, è partito sul minimo di settembre 2022 e sta imperversando con questa fase. Fase che probabilmente sta andando a disegnare anche un'app con un ciclo che si potrebbe andare a sviluppare in forma ternaria, ma di questo poi ne parliamo. Dove è diretta la dominanza? Vi lascio sulla mia testa uno dei video a cui tengo particolarmente, che secondo me è molto importante ragazzi andarlo a visionare, cioè quello dove vi spiegavo che il rapporto cambio Ethereum-BTC è molto importante per comprendere come mai le cripto in questo momento stanno sottoperformando Bitcoin e dove in effetti a livello temporale potrebbe esserci un recupero di queste cripto proprio nei confronti di Bitcoin, sempre se il bull market continuerà ad essere persistente. Vi lascio il link sulla mia testa, rivedete quel video. Ho detto questo, subito grafico della Dominance, poi passiamo a Atacardano, la sua situazione ciclica e poi vediamo Ripple. Prima di tutto andiamo a lanciare la moneta, questa volta la lancio all'inizio. Dati negativi della Fed? Non lo so. Ovviamente la moneta è solo un gioco, non funzionerà mai, ma in realtà negli ultimi periodi ha funzionato. Vi faccio vedere quelle che sono comunque le previsioni per il rialzo dei tassi che la Fed dovrà annunciare a pochissimo, a brevissimo, 87-88% indica che il rialzo avverrà di 0,25. 0,25% atteso assolutamente, anche da me secondo me 0,25 è un ottimo, ha una grande probabilità alla Fed di fare questo rialzo. Attenzione ai shock di mercato, perché shock di mercato negativi che sono completamente inattesi, quindi rialzi di 0,5 alle 19, se siete in Italia, oro italiano, 19. C'è la comunicazione del tasso, 0,5 di rialzo, i mercati vanno down, nessun rialzo, i mercati pomperanno e Bitcoin potrebbe anche rompere. A quella che è il livello di resistenza di 28 adesso, 28,5-29, ma mi raccomando ragazzi, dati confermati, previsti, ovviamente la volatilità ci sarà, c'è sempre un po' di volatilità, ma in sostanza news che non modificano l'andamento naturale dei mercati. Passiamo a vedere la dominance di Bitcoin, analisi ciclica molto standard, un ciclo classico di Bitcoin dominance iniziato a settembre. C'è un po' di dubbio se sul minimo del 6 marzo, settimana del 6 marzo, stiamo guardando time frame, settimana del Bitcoin abbia in effetti costruito un suo ciclo di natura semestrale, 182 giorni, oppure se questo ciclo debba ancora allungarsi e sta andando a fare proprio un massimo, perché magari è un ciclo di natura ternaria così sviluppato, a quel punto si allungherebbe un po' la struttura. Non ci importa la posizione precisa dei cicli, ci importa guardare quelle che sono le logiche di lungo periodo per quanto riguarda la dominance, perché la dominance è un indicatore che non ci dà un'indicazione di trading intraday, ma semplicemente di position, di forza relativa tra Bitcoin e altre cripto. Ma in particolar modo ragazzi, io tendo a sottolinearvi un punto importante. Questo grafico della dominance è strettamente dipendente da Ethereum e dalle top 5 cripto, escluse le stable, del mercato, perché le altre pesano veramente poco, ma guardiamo un altro grafico. Allora ragazzi, questo è un grafico abbastanza particolare, perché è un grafico legato alla dominance di Bitcoin, ma con esclusione di quelle che sono le stablecoin più importanti, USDT, USDC e DAI. Ovviamente dovremmo anche considerare BUSD da aggiungere anche a questo grafico. Il peso però di BUSD ragazzi è molto basso in questo momento rispetto alla sua questione del fatto che insomma verrà o sostituito, abbandonato nel corso dei prossimi mesi, ed è 0,68 sostanzialmente. Quindi questa elaborazione che abbiamo qui della dominance è essenzialmente più o meno corretta. Non ci interessa in ogni caso il dato preciso, ci interessa capire a livello qualitativo quello che ci indica questo dato, cioè il rapporto di forza tra Bitcoin e le altre criptovalute, Ethereum compreso, è in trend al rialzo da maggio del 2021. Seppur questo trend è un trend laterale rialzista, cioè non ha un trend dirompente magari, ok? E visto che questo livello di dominanza è sensibilmente al di sotto di livelli chiave come per esempio il 60%, allora sembra che Bitcoin non sopraperformi o non sia estremamente performante rispetto alle altcoin. In realtà non è per niente così. Se poi addirittura andiamo ad eliminare quella che è la principale competitor, tra virgolette, di Bitcoin, che è Ethereum, vi faccio vedere la sua capitalizzazione, in pratica Bitcoin incide per tutto il capitale, per tutto il mondo cripto, perché Ethereum ragazzi è il 18% della dominance, quindi in pratica è come se noi a questo dato dovessimo aggiungere un ulteriore 18%, portando il dato in pratica al 75% totale del mercato. Se poi andiamo anche a considerare BNB, che è l'ultimo più o meno 5%, abbiamo l'80%, cioè Bitcoin ragazzi, Bitcoin, Ethereum, BNB rappresentano l'80% di tutto il mercato delle cripto, escluso le stablecoin, che sappiamo bene essere una cripto, però non avere le belleità di poter crescere o di avere dei trend al rialzo. Quindi ragazzi, la dominance di Bitcoin è vero che non è ai livelli storici del pre-stablecoin, di insomma quello che era la struttura dell'ultima bolla, dopo l'ultima bolla del 2020, però in ogni caso è in trend al rialzo già da maggio del 2021. Questo app, che coincide con un'app di circa il 60% di dominance, vi ripeto, di Bitcoin, escluso le stablecoin, non è ancora stato raggiunto dal re delle criptovalute, non è ancora stato raggiunto neanche in questa struttura ciclica, e questa perché si aveva questo spuntone ragazzi? Perché Ethereum era crashato a giugno del 2022 andando a fare il suo minimo intorno ai 900 dollari, quindi con il crash di Ethereum Bitcoin esplode, no? Ovviamente al rialzo. Questo ci dice anche quanto questo grafico dimostri la forza relativa di Bitcoin nei confronti dell'intero mercato cripto, e soprattutto anche la forza relativa di Bitcoin nei confronti di Ethereum. Quindi analizzare il grafico Ethereum BTC è fondamentale per comprendere anche quando qualcuna di queste cripto potrebbe dare uno sdlancio maggiore. Ora, significa che Bitcoin è salito di più delle altre cripto? No, perché la dominance ragazzi è un dato di natura percentuale. Essendo un dato di natura percentuale, tiene conto essenzialmente della capitalizzazione di Bitcoin, quindi la percentuale di capitalizzazione. Bitcoin è molto capitalizzato, perciò un 1% su Bitcoin equivale magari a un 10-40% anche di cripto molto piccole. Perciò ragazzi, nonostante magari alcune cripto possano salire del 10-20%, Bitcoin con un 1-2% fa di più in termini di valore assoluto, di market cap. Perciò questo dato non deve essere utilizzato pensando che in questo modo noi abbiamo un'informazione sul fatto che Bitcoin guadagni di più delle altre cripto. Non è questo il concetto, ma è un concetto di forza relativa, di stabilità del mercato. Questo grafico ci può dare un'informazione molto utile sul fatto che Bitcoin è ancora molto forte nel mercato delle cripto, molto più forte di quello che non sembrava soltanto poco poco tempo fa. Invece poi per guardare quelli che sono i dati della singola cripto nei confronti di Bitcoin bisogna utilizzare un grafico che si definisce grafico di spread. Ho creato anche un modulo esclusivo nel mio corso Basic 2.0, un modulo a parte però ragazzi non è all'interno del corso, che spiega proprio una strategia di spread trading e come si creano e tutto il resto. Magari ne parleremo un po' in un nuovo video. Quindi Bitcoin ancora molto molto forte e soprattutto nulla vieta a questo trend, per le regole di trend, di poter fare anche un ulteriore guizzo qui su, che magari potrebbe essere proprio la fase finale di questa struttura, coincidente con, badate un po', giugno magari 2023, mese di snodo ovviamente all'intorno di un'area temporale, giugno che va da maggio a luglio, in sostanza più o meno la zona estiva, dove effettivamente Ethereum potrebbe andare a chiudere un ciclo quadriennale su Bitcoin e poi da lì ragazzi ve lo dico proprio chiaro, se succede questa cosa, se i mercati confermano, se siamo a cavallo su quel trend lì e lo riusciamo a individuare come stiamo facendo da un annetto, ne vedremo delle belle perché ci saranno delle occasioni d'oro, secondo me, anche sulle altre cripto. Allora andiamo a vedere invece poi per quanto riguarda l'analisi ciclica di ADA, ADA e poi passiamo ad XRP che cosa è successo perché ha fatto questo boom. Allora ragazzi, ADA, analisi ciclica è molto particolare perché ADA, la differenza di altre criptovalute ha la fase del bear market divisa in due cicli annuali molto corti oppure di natura ternaria con una zona centrale e con un massimo invece di un minimo e poi una fase che dura tantissimo, quindi non è possibile far coincidere per ADA da luglio a dicembre come un unico ciclo di natura annuale perché andremo oltre 500 insomma, già Bitcoin 4,90 insomma è un eccesso palese, figuriamoci ad andare oltre poi quelle cifre non avrebbe senso. Si potrebbe anche considerare una cosa del genere ma è poco significativo perché in realtà ragazzi qui siamo a maggio non è neanche coincidente con i minimi di giugno che sono stati al contrario su ADA leggermente più forti rispetto a quelle che avevamo visto su Bitcoin. Quindi ADA sicuro ha chiuso un ciclo a dicembre e quindi partiamo da dicembre per la sua complessità diciamo in questo modo. Ciclo annuale iniziato per ADA a dicembre, se vi ricordate qualcuno di voi simpaticamente si ricorda lo scorso anno quando avevamo analizzato ADA più volte anche in varie live dove avevo indicato ciclo annuale ribassista, si scende e basta, si scende e basta, così è stato fino a dicembre 2023. Poi è stato chiuso ovviamente la struttura ciclica, Bitcoin l'ha chiuso a novembre, ADA a dicembre ed ha iniziato una nuova fase. Questa nuova fase è interessante da andare a constatare perché per esempio qui ha chiuso un ciclo trimestrale da 70 giorni ed ha iniziato una nuova fase che però ragazzi è debole. Allora queste fasi di queste cripto vanno tenute in stretta considerazione perché un mancato superamento per esempio di 0,42-0,43 di questa fase non sarebbe positivo per Cardano, per diciamo la cripto contendente anche il trono di Ethereum ovviamente tra virgolette come ben sapete. Però una cosa del genere sarebbe la struttura naturale di questo ciclo trimestrale. Perciò in realtà questo grafico ci dà un'indicazione interessante. Questo livello spartiacque che è il massimo dello scorso ciclo trimestrale che Bitcoin ha rotto proprio la settimana scorsa, ADA non lo ha rotto e non lo ha neanche scalpito. Però solo ed esclusivamente nella giornata di ieri con il più 11% è riuscita a breccare in maniera consistente ai livelli delle due medie e poi a portarsi sopra perché questi break ragazzi sono fake break cioè sono intorni delle medie ma non un vero break. Qui è riuscita a breccarla si è diciamo indirizzata verso questo nuovo trend. Ora le itali alziste si avrebbero solo esclusivamente al superavento T0,42-0,43. C'è anche da dire che secondo me l'operatività su cripto di questo tipo non può avvenire al breakout di questi livelli perché ragazzi le cripto come ADA e anche XRP che vedremo tra poco sono estremamente volatili quindi attendere un breakout potrebbe essere negativo in quanto magari è semplicemente il punto di arrivo di un trend quindi non è come Bitcoin e io agirei su queste cripto con atteggiamenti di magari di pullback piuttosto che altro anche perché vi difendono di più magari dai livelli di stop che dovrebbero a questo punto essere messi al di sotto di questo prezzo. Parliamo secondo me infatti più del livello di stop su ADA che è rilevante per chi magari ha delle posizioni in hold 0,29 dollari e un livello di stop. Se la cripto dovesse chiudere al di sotto di questo livello preparatevi a un altro test di questi minimi se non a un altro minimo e la cosa sarebbe estremamente preoccupante perché ragazzi poi se qui è iniziato un annuale e questo annuale non regge per un tot di tempo questa cripto potrebbe essere utilizzata addirittura per short selling piuttosto che per log. Ora siamo ancora nella terra di nessuno perché questi sono i due livelli quindi fino a quando siamo tra questo livello e questo livello qui è la terra di nessuno cioè vanno bene entrambe le ipotesi ma il breakout in questo livello per gli holder di ADA tenetelo fortemente sotto considerazione ok solo se arriva a giugno quando chiude questa zona e solo se fa un mini breakout ma se lo fa prima in qualsiasi modo in qualsiasi salta è pericolosissimo stare su questa cripto. Al contrario invece superamenti di questo livello sanciscono un respiro di sollievo per chi è holder perché poi a quel punto si può stare un po' di più perché il ciclo probabilmente annuale vira ad essere un ciclo rialzista e quindi c'è più spazio no ragazzi anche per fare nuovi massimi e allo stesso tempo per magari non avere paura di avere un ciclo ribassista quindi ok questo rialzo su ADA è stato interessante ok il break di queste medie qui siamo in pieno ciclo trimestrale in questo ciclo se vuole risalire la china ADA deve fare nuovi massimi al di sopra di 0.42 questo tenetelo a mente è il livello chiave proprio per per ADA. passiamo ad xrp interessantissimo la struttura perché xrp continua ad essere una delle cripto più decorrelate a tutte le altre cripto perché ovviamente essendo cripto poterizzata per altri scopi non è molto correlata alle altre. Ha spesso e volentieri dei swing rialzisti e crea queste figure che scherzosamente noi chiamiamo i Bart. il Bart è una figura che ha un hype iniziale poi questo capellone a spazzola e poi un down questa è la faccia di Bart Simpson in pratica ragazzi così viene definita ed è per questo che viene chiamata Bart cioè la fase rialzista poi una barra di congestione estremamente rumorosa e volatile poi la fase di ribasso che riporta i prezzi agli stessi livelli precedenti. ora che qui sia un Bart o meno chiaramente noi possiamo prevedere in futuro però sembra proprio esclusivamente la classica figura di di Ripple che va a replicare n volte solo solo esclusivamente il superamento di 0,55 dollari salcisce l'inizio di un nuovo trend su Ripple quello che invece dal giugno del 2022 continua ad essere sostanzialmente in una super barra di congestione super barra di congestione che non ha neanche in pratica delle chiusure cicliche evidenti sembrerebbe che qui intorno a gennaio in questa zona sia stato chiuso un ciclo se siamo lasciato il ciclo è stato chiuso qui su questo minimo a 200 giorni ed è un semestrale se qui è iniziato un nuovo semestrale in pratica ce ne andiamo verso giugno luglio 2023 a chiudere questa fase ciclica annuale che sarà una annuale in barra di congestione dovesse fare una cosa del genere perciò velleitarie alziste nonostante la news sul Ripple io non ne ho per me è ancora un no almeno fino al superamento di 0,55 perché non ha nessun trend da un anno quindi in sostanza per chi conosce il trading questa cripto in questo momento è una figata per fare appunto sell the up e buy the dump in questo caso solo con tecniche di trading e stop loss annessi e tutto quello che ne consegue anche perché è estremamente volatile va bene detto questo ragazzi per oggi è tutto vediamo se bitcoin dopo il dato della fed di oggi pomeriggio riuscirà a breccare addirittura il suo livello importante ciclicamente iniziamo ad andare verso delle fasi un po delicate ancora non è detta l'ultima parola perché è ancora 25-26 di marzo più o meno ci può stare un nuovo massimo da lì in poi secondo me iniziamo ad avere il fiatone sul collo dei cicli in chiusura come per esempio il mensile e lì andremo a ragionare un po di più mi raccomando state sempre sul canale iscrivetevi se ancora non l'avete fatta e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti